brutte robe è quello la e che lo riesco a prendere che c'è la finestra affanata è quello la 3A merda niente non la ferma con le zone mi trovavo in un muore un pallo sti nazzoni preso bravo guarda sta arando pure l'altra base guarda gli ha arato la base ecco l'ha ucciso sta venendo verso di te che faccio gli sparo che cazzo spari zio qualcosa io c'ho la macchina l'altra sottotiro e sta andando lo strider eh no qua c'è una macchina non penso che la lascia e forse non è suo l'ho vista io scendere no ma è una macchina blindata con una torretta sopra blindata allo stesso tempo no ma è un problema guarda ha alzato la torretta no già ce l'aveva alzata quella più che altro io che voglio fare con questo non si può fare niente m'ha visto m'ha visto zio eh che devo fa mi sta distruggendo la base ti ha fatto no no mi sa che mi sta rendo la base però come faccio mi sta spesso ha spento ha spento si ucciso uno gli ho ucciso uno bravissimo o mi butto da di qua mi butto mi butto mi so buttato sto scappando li salgo da un altro lato gli faccio il giro e gli sparo l'unica cosa è che io non riesco a vederti porca troia lì ti vedo lì ti vedo quello di fronte quello di fronte no è più resistente sul vetro laterale sul vetro laterale ci vogliono 20 colpi mi pare non c'è una granata io gli sparo attraverso il vetro ucciso madonna fottiti la macchina no cazzo ce n'è un altro se non mi ricordo assolutamente dove cazzo sta quello questo era calato minchia io vengo là dove stai tu camafà eh li abbiamo arati zio camafà ce ne andiamo eh perché che dobbiamo fare se no dentro può essere ma dentro ci sono altri piani è questa da sopra che cazzo hanno fatto sta base così dieci minuti l'hanno fatta si non vuole niente facciamo una basso eh ma non puoi hanno chiuso le finestre mi rinno termico mi rinno termico mi rinno termico mi rinno termico sto qua lungo la strada eh lo so pure io volevo andare lì perché io qua sto in un punto di merda mi uccidono subito vieni vieni zio eh vabbò ma no perché conviene comunque coprire da due lati rimane rimane la zio perché io io qui dove sto io vedo la porta capi sei lì ma tu non puoi scendere al piano di sotto si eh ok allora aspetta un attimo aspetta un attimo perché se questo passa e apre la porta l'ho shotto io guardi un attimo ma che cosa piace ma buvo avvicino a piedi io là faccio il giro no no papo faccio il giro in mezzo alla spiaggia ah lo vedo lo vedo lo vedo dov'è? lo vedi? si si è steso sotto lo strider ah lo faccio lo faccio da qua dietro eh ma come scende felice? intanto lo faccio a questo eh fallo fallo come sta a dire i paravacci ah veramente? si ora sta a parlare sta qua pure contatto fanteria felice sotto di te 75 minuti ma io non posso neanche uscire se no vi uscivo beh no non ti preoccupiamo chissà se mi vede eh allora se si alza l'ho shotto io ah ok va bene però eh felice vieni dall'altro lato vieni dall'altro lato vieni verso di me che forse fa pure lui il giro e viene verso di me se si viene dal lato mio lo uccido ma quando? quando esco? no mo mo perché lui sta seguendo i tuoi passi tu stai dentro eh eh vieni solo dal lato mio allora non vedo nessuno sotto lo strider no si è mostro è andato dalla eh perché felice ok stai qua stai qua oi sta lì? eh io no ha acceso lo strider lo strider ma qui è un admin c'è lo strider nero no non è un admin è un V sta qua sta sotto sta qua mo se scende dallo strider è no sta facendo il giro con lo strider se si ferma qua se mi si ferma davanti lo zi lo strider è nostro no gira di continuo poco poco si ferma un secondo si è fermato no cazzo è fermato papo eh lo so vuole rompere la porta si vuole spaccare la porta perché non la può aprire eh se l'apre aspetta aspetta zio fermati fermati ma perché non si ferma ah sta guardando a te comunque a me? no no a felice ma mi guarda asciuta si non mi dica che mi ha visto si preoccupava papo non ti ha visto porca trossa sulla collina non lo vedo sta storto e sta storto non lo vedo eh felice muoviti muoviti che ti spara col mitragliatore ma come è un mitragliatore? muoviti 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 vai dall'altro lato lato opposto o in là noi stati là stenditi come mi spara con il mitragliatore dello strider? uccidi l'ho ucciso è andato è andato è andato è sempre lui eh l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso e ma chi è che sta camminando ancora? prendetevi lo strider eh si è buggato gira intorno ecco si è fermato andiamo 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 vabbò io me ne vado vabbè si accadì hm 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 vabbè si accadì non è semmi dire vabbè si accadì 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 vabbè si accadì